I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona, nell'ambito dell'operazione denominata Girasole, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di beni per 700 mila euro, nei confronti di un imprenditore agricolo di origini pakistane, emesso su richiesta del procuratore della Repubblica di Macerata. Le approfondite attività investigative sono state svolte nei confronti di Muhammad Malik, di 45 anni, persona indagata per il reato di caporalato. Le indagini hanno consentito di sottoporre a sequestro due immobili, il primo un casale con annesso magazzino per un totale di oltre 500 metri quadri ed il secondo composto da tre appartamenti di circa 175 metri quadri e due terreni agricoli della superficie complessiva di tre ettari, ubicati tutti in provincia di Macerata. I minuziosi riscontri hanno permesso di rilevare che la persona aveva usato presso i campi agricoli ubicati a Monte Lupone e Recanati, numerosi lavoratori, tutti di etnia straniera, impiegati come braccianti agricoli per 12 ore al giorno, alcuni dei quali richiedenti asilo politico e in possesso di permesso di soggiorno provvisorio. Dopo aver effettuato approfondite indagini di carattere patrimoniale, è stato rilevato che la persona indagata aveva acquisito il cospicuo patrimonio immobiliare, in parte intestato al coniuge convivente, risultato sproporzionato rispetto alla posizione reddituale ufficialmente dichiarata e per tale motivo oggetto di apposito provvedimento di sequestro.